Pugni chiusi è un linguaggio che oramai è raro sentire, contro gli Yankees, contro gli Stati Uniti e contro il loro imperialismo. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha partecipato a sorpresa all'incontro di solidarietà per la democrazia e contro il neoliberalismo tenutosi a Cuba. Per uno dei leader più contestati e isolati del momento è stata l'occasione per scagliarsi davanti a un pubblico di 1200 persone, contro il presidente salvadoregno Naib Bukele, che lo scorso sabato ha ordinato l'espulsione dei diplomatici venezuelani dal suo paese. Maduro lo ha chiamato traditore e soldato dell'imperialismo, ha aggiunto che nessuno come lui potrà comunque separare il popolo del Salvador e del Venezuela, che resteranno uniti. Accanto a Maduro è il presidente cubano Miguel Diaz Canel, padrone di casa, leader di un paese amico del Venezuela. A chiusura del forum antiimperialista, i due leader si sono felicitati per la vittoria delle sinistre in Messico ed Argentina, prospettando un nuovo futuro per il fronte progressista sudamericano e chiamando alla mobilitazione contro gli Stati Uniti con manifestazioni fuori dalle ambasciate statunitensi in tutto il mondo il prossimo 16 novembre.